e ora è il momento di blanco's outsider mi sembra mentre occhio attenzione a bertocchi mamma mia buona così trepitoso gol di bertocchi si vede si vede attenzione al tiri bocchi e si assegnando un po di copertone qua tiri bocchi rosso che svolazza sull'auto di sinistra ma è tutto suo fragolino davide bertocchi ma che giocata fa per me tutti carte aspettate scelgo ovviamente serghei a battere il rigore letteralmente serghei contro matteo schiena prova ad andare parte la finta e mamma mia ma che portiere è ma che portiere è attenzione brutto scontro tra l'italo che viene espulso attenzione anche vai a sentire il football a sinistra e l'italo si avvicina testatina prima ha fatto un po il maranza e poi qua attenzione risolverla dose riccardo matteo schiena il numero 10 un po accentrato prova la clamorosa da parte criaco mamma mia mamma mia che giocatore schiena una tranquilla che tranquillità mette la difesa ok bertocchi 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 tripletta e una palla di mauro dimasch dimasch prova ma è quello rossino non si passa di mauro l'han tenuto in panchina quattro ore e lui ce ne mette 5 6 minuti per fare un gol clamoroso attenzione potrebbe essere l'ultima azione spera ma che ha fatto girare sera 3 a 3 ricorda molto il gol che fece cristiano ronaldo contro il porto vediamo 3 contro 3 un cantante non melodico va della conclusione un cantante Sergei continuare Sergei passaggio timido per dose che fa proseguire mamma mia schiena c'è ancora è finita il muro ma questo finisce finisce 3 a 3 così incredibile signori 3 a 3 la partita del pareggiano 3 a 3 contro gli ex finalisti non combined totale oh iscriviti al canale Grazie a tutti.